a vivere non voglio salto di un punto all'altro perché altrimenti diventa troppo lungo questo vuol dire facendo molti salti logici che dobbiamo però costruire un soggetto quello avrà la forma del polo del partito questo è un altro punto ancora che però abbia una sua omogeneità abbia una sua visione del mondo perché io credo che non si possa stare in un modello non possa esistere un modello di partito o anche di coalizione larga che non abbia delle basi fondamentali sui nodi storici di un momento perché altrimenti un partito si trasforma in un parlamento un partito non è un parlamento un partito ha una cultura politica ha un'ideologia e ha degli obiettivi che in una fase storica sono dirimenti e strategici se sei su quella cosa poi ti puoi dividere sulla tattica ma non sulla strategia uno di questi passaggi è la questione dell'Unione Europea su cui c'è un discrimine non c'è niente da fare questo non è un problema negativo di reciproco ora l'Unione Europea è una formazione che adesso l'abbiamo discusso già altre volte non voglio dire ripretti insomma avviene per motivi di carattere liberisti di dominio di certi tipi di capitali per problemi storici legati ai conflitti europei fra Germania in particolare e a un conflitto intercapitalistico interstatale in cui c'erano delle nazioni che davano fastidio delle altre e si è combinato questo mostro perché è un mostro che si chiama Unione Europea che ha un obiettivo quello di diventare un super stato Unione Europea non usa Europa volutamente perché viene usato questo termine per fregare per non far pensare perché l'Europa è un continente gli europei sono anche i così i russi i russi hanno anche una parte dei turchi e infatti usano gli europeisti unionisti usano l'Europa per non dire unione perché rispetto alla popolazione l'Unione fa sempre più schifo allora dicono vogliamo un'Europa così non si capisce tu vuoi l'Europa sì voglio un'Unione dei popoli europei va bene però poi quando vai a materializzare questa cosa si chiama Unione Europea si chiama Purset si chiama Parlamento Europeo e vedi c'è e c'ha dei meccanismi andemocratici se si vuole e ha dei meccanismi come l'Euro che dividono l'Unione perché abbiamo condizioni storiche sociali economiche diverse se tu dimetti con un punto che è uguale per tutti fai la differenza rispetto a tutti e quindi questa abbiamo una continua situazione di tensione in più con la liberalizzazione le banche nazionali che sono saltate vi dicendo la banca europea che non fa riferimento a nessuno Stato abbiamo una situazione in cui la questione del debito vi dicendo serve per far soldi a qualcuno e portarli via a qualcun altro e impedire investimenti eccetera 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 l'Unione Europea deve saltare per noi e l'Euro deve saltare perché questo non può produrre che un allargamento dei conflitti e del senso di unità che si può costruire a livello europeo sta ottenendo il risultato opposto di quello che si dice di volere ora se noi vogliamo unire i popoli europei e unire i popoli europei fa sempre bene poi dovrebbe capire a che serve eccetera eccetera se è possibile o meno il modello unionista è un modello negativo va contro allo stesso obiettivo allora non si capisce perché ad esempio se quello è il vero obiettivo che vogliono unire i popoli perché non si ragiona sul fatto di unirli in un'altra maniera per esempio così tanto per discutere in un modello confederale confederale nel senso di tu metti insieme degli stati sovrani che mettono insieme le cose che riuniscono e tengono separate per i ridividono invece cosa siamo in una situazione in cui non c'è questo non c'è nemmeno l'altro ma vediamo tutti i giorni che ci sono delle differenze incredibili in cui gli stati invece esistono e soprattutto esistono quelli che contano gli stati la Francia e la Germania per cui la Germania fa la sua politica estera la Francia fa la sua politica inarica con infetti eccetera eccetera perché non abbiamo una politica estera che possa essere messa insieme quelle sociali lasciamo perdere quindi non si capisce allora io non capisco quelli che dicono come compagno Nadalino e anche te mi sembra come si debba e si possa mantenere l'obiettivo di tenere insieme l'Unione Europea e l'Euro allora poi uno mi dice uno mi dice come si fa questo è il secondo problema ora io credo nell'esperienza che abbiamo avuto in questi anni che è del tutto evidente che è difficile che una singola nazione possa rompere no però può essere anche costretto a farlo se è in grado di farlo è la politica che lo decide la mia risposta ti arriverà a questa va bene va bene per dire che secondo me la discussione che dobbiamo fare fra di noi è come far saltare l'Europa non che non si può fare perché chissà cosa succede perché quello che succede per l'Italia è un debilino inevitabile da un punto di vista economico sociale e democratico punto non è che succede un'altra cosa non è che c'è un miracolo dell'enterogenesi dei fini per cui il male produce il bene non esiste questa cosa io per esempio questa è opinione personale penso che è più probabile che forse che c'è un combinato di sposti in cui l'Unione Europea implode per contraddizioni interne perché adesso dopo le elezioni può essere il livello di si allargano le contraddizioni Francia e Germania si sono viste e hanno fatto un accordo qui hanno addirittura unito i due parlamentini quindi voglio dire oggi non abbiamo una teoria per cui è preferibile questo quell'altra però le strade devono perseguite tutte alzare lo scontro per allargare le contraddizioni dentro l'Unione Europea in parte questo governo l'ha dimostrato che si può fare in parte lo fanno anche i portoghesi la Brexit non è una dimostrazione che non si può usire ma è un altro problema perché se non avessi avuto la questione dell'Irlanda sarebbero già usciti e l'Inghilterra non lo fa per motivi sociali cioè i gruppi di potere inglesi ma perché vogliono stare in un altro scacchiera mondiale per altri e per lottare di motivi se loro potessero prendere l'Inghilterra e metterla di fronte a Hong Kong quello sarebbe il loro progetto appunto questa è l'idea dell'Inghilterra poi invece ci sono quelli i settori popolari che votano Brexit per motivi invece sociali però come tutti gli altri cercano in qualche maniera di difendersi da quello che è la l'antropalizzazione come rinasta e come il il progetto di cui parlerò dopo noi ci siamo posti un altro problema rispetto a questo perché siccome è evidente che oltre un certo livello c'è una difficoltà ad allargare il consenso a una nuova idea dell'Unione Europea che non può nascere che dalla rottura di questa e quindi che non ha senso sempre dire no euro non euro non euro non euro appunto e basta abbiamo pensato a un ragionamento diverso cioè invece di partire dalla questione della rottura dell'Unione Europea partire da che cosa vogliamo fare noi e che cosa vogliamo fare noi vogliamo attuare la Costituzione per attuare la Costituzione devi avere la sovranità monetaria devi avere la sovranità democratica no per cui se quando vai a fare finanziarie eccetera di qualsiasi cosa devi essere autonomo e decidere quello che che cavolo ti vuole e questo e siccome noi riteniamo che a differenza delle idee globalistiche dicendo come tutti voi qua la sovranità è il luogo nazionale è il luogo in cui si fa la lotta politica la lotta democratica e anche la lotta di classe no che poi dopo diventa internazionale per i motivi che sono già stati stati detti dobbiamo concentrarci appunto sulla questione nazionale sulla questione dell'interesse nazionale recuperando perché lo dicessi tu un defici storico che abbiamo rispetto ad altre nazioni cioè noi siamo autolesionisti noi siamo gli anti italiani più di tutti gli altri di tutti gli altri perché perché abbiamo una storia che è quella complicata non abbiamo fatto una rivoluzione cioè non abbiamo fatto molte cose abbiamo fatto molte cose di merito no in più avevamo in una fase cruciale quando diciamo non si è attivata la costituzione due partiti due culture una comunista quella socialista quella comunale cattolica un partito cale che erano antinazionali prima quella perché gli hanno rubato l'Italia al Papa con una porta pia eccetera eccetera e vi dicendo quindi erano antinazionali e anche allora il partito comunista aveva un'idea un po' diciamo diversa rispetto all'internazionalismo perché l'internazionalismo cominciava da Mosca eccetera eccetera e quindi tutti gli elementi nazionali erano un po' così no anche se poi il partito comunista si metteva la bandierina dentro noi i colori i tricolori dentro però diciamo non era la questione nazionale era un po' diciamo anche rispetto a quello che ha scritto Granchi un po' cioè attutita in qualche in qualche in qualche modo noi credo dobbiamo recuperare questo tipo di questione perché non possiamo lasciare le destre la questione della patria della nazione eccetera eccetera e perché se noi non costruiamo un popolo che si autostima e che si riappropria della propria storia noi non siamo dell'Europa non siamo dalla Nato ma non siamo neanche di casa tra un po' perché qualsiasi serve che tu fai oggi e pur avendone oggi le opportunità perché il mondo globalizzato il policentrismo è dicendo vediamo che ti dà la possibilità la via della seta piuttosto che la via di Washington ti permette ha sempre fatto questo stiamo dentro la radio poi facevamo le cose con gli armi abbiamo sempre avuto una politica mediterranea ma per fare queste politiche oggi comunque sempre devi vedere un popolo che tiene perché ti arriveranno sempre addosso delle sassate è inevitabile come ne abbiamo già avuti diciamo l'ultimo è stato Amor che ha messo in dubbio la nostra sovranità ma poi torniamo indietro e ne abbiamo avuti ecco questo vuol dire scoprire l'interesse nazionale ma per farla corta poi vado rapidamente all'ultimo punto io penso che noi abbiamo un problema in dove divare un filone su cui regionare e credo che questo sia la questione dello Stato che di nuovo rientra nel bagaglio problematico di questa nazione noi non abbiamo mai avuto una Stato della Costituzione perché lo Stato post resistenziale era un misto fra quello Sabaudo quello fascista e quello che in qualche maniera poi hanno cercato di fare ma come abbiamo visto già quando c'era la Costituente quando c'era la Costituente l'unico governo resistenziale quello che parte tanto per dire quindi l'attacco alla Costituzione è arrivata prima ancora che in assesso tanto per dire lo Stato è quell'elemento che fra l'altro la sinistra sta negando perché è antistatalista liberizzazione privatizzazione tutto chi ne ha più ne mente ma è la contiglia dello Stato che ha portato avanti il conflitto del movimento operaio e che ci ha fatto diventare diciamo in qualche maniera ha allargato il benessere ha allargato la partecipazione delle classi popolari democratici al Paese e infatti nel momento in cui hanno cominciato a chiudere la possibilità delle classi popolari di incidere in termini politici concreti non in termini astrati nelle sedi dello Stato quindi la liberizzazione privatizzazione Italia eccetera 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 è cominciato il rinculo rispetto appunto all'elemento di partecipazione o avviene in forme molto molto diciamo contraddittorie perché tu voti Salvini o voti Di Maio uno stagione democratico sul piano degli obiettivi insomma non è che le cose sono abbastanza uno è sovranista liberista l'altro non si capisce che caso sia perché tutti ormai sono legati dentro di una bolla cioè quello che dicono non ha nessun significato se non quello di prendere a voto di fare dell'opinione punto se Salvini dice va quello dice B se quello dice B l'altro dice A quello dietro i contenuti ormai si stanno assolutamente perdendo perdendo però lo resistono lo resistono eh ma certo lo resistono noi no perché? perché evidentemente non sappiamo non abbiamo del tutto chiari contenuti e non sappiamo anche comunicarli è del tutto evidente hanno contenuto loro hanno contenuto sì ce ne hanno sono tanti che non sono condivisibili non sono le hanno 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 cos'è 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 che manca a differenza di altri paesi c'è stato detto manca un soggetto un fronte un campo o meglio un campo esiste ma è molto frammentato diciamo sovranista costituzionale e per noi anche socialista è esattamente il problema che noi dobbiamo sdoganare che progressivamente deve diventare il punto di riferimento lo sdoganamento della questione del socialismo stiamo nel socialismo perché non dico socialista perché si incazzano i comunisti in questi anni abbiamo fatto molte esperienze tutti noi più o meno veniamo da esperienze di questo tipo che sono fallimentari sono stati falliti fino ad adesso falliti no? il modello bagnale tanto per dirne uno il CLN un altro poi perché è crollato io penso poi c'è il fronte sovranista poi c'è stato il discorso Italia in alcuni casi non era chiaro l'ambito ideologico in alcuni casi in altri casi secondo me è venuto avanti è lo stop no? rinascita e nata perché prima di voi abbiamo detto pap non si pappa perché quella è una la riproposizione del sinistrismo il sinistrismo in Italia è negativo non porta da nessuna parte anzi alimenta alimenta la destra se c'è se c'è se ci sono dei soggetti che alimentano la destra questa è la sinistra poi poi vogliono fare il fronte anti Salvini quando sono quelli che quando parlano a cominciare dalla Boldrini ma non solo la Boldrini sono voti per Salvini no? proprio questa è una cosa assolutamente sentita la Boldrini che è quando appare ora si basta vedere basta vedere secondo me allora ecco qui dobbiamo individuare bene i problemi sicuramente c'è un problema di evoluzione nell'elaborazione quindi nell'elaborare la costruzione di questo campo in modo da essere in grado poi di essere efficaci sul piano politico e sul piano sociale ci sono delle rigidità che non fanno bene da questo punto di vista secondo me bisogna essere molto più attenti sperimentare cambiare seguire l'evoluzione delle cose però questo richiede un gruppo dirigente il secondo elemento che io vedo che è stato negativo è il fatto che ci sono i partiti del capo cioè esistono delle formazioni politiche che esistono solo perché per il capo e a me l'unica cosa che piace del capo è l'amaro per il resto proprio c'è l'elemento proprietario io non lo sto a spiegare a voi perché voi siete un esempio il risorgimento è l'esempio di uno che si fa il partito per i cazzi come Mediolamo soltanto che Mediolamo ti fa la banca torna a te e invece Cristo sono fatto torna a sé questo io penso sia stato sia il risorgimento socialista sia il fronte sovranista e in una forma un po' più autotita secondo me anche sollevazione l'anno scorso alla fine dell'anno scorso c'è stata una convergenza dove si è proposto questo problema finisco su questo una convergenza fra Fassina che a un certo punto non so se era illuminato sulla linea di Damasco sulla via di Damasco se era ceccata altre cose a un certo punto sposa sembra sposare queste idee di cui stiamo parlando no? critica l'Unione Europea la questione del socialismo più da torre che Fassina e dall'altra parte diciamo questa esperienza di senso comune che aveva caratteristiche diciamo anche queste compatibili la questione dello Stato eccetera 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 e appunto questo soggetto nuovo di Nasti che era nato dall'uscita e dall'uscita e dall'euro c'è la storia diciamo i primi tempi vanno bene facciamo questo manifesto che secondo me è un punto di compromesso ma avanzato non estremista ma radicale c'è una serie di posizioni che di vecchi sempre del Rosso Bro quindi il patriottismo costituzionale la questione della Costituzione come elemento centrale su cui tutto il resto è subordinato a partire dall'Unione Europea che non hanno la Costituzione perché loro lo dicono anche un passaggio difficile sulla questione che è quella che è dedicata quella dei migranti che è una delle cose che ha disastrato la sinistra l'incapacità di essere di gestire la questione del fenomeno che è epocale ma evidentemente dell'immigrazione è stato uno dei disastri no? che ha della sinistra su cui hanno lucrato tutti gli altri no? cominciare da Boss no? quindi la storia è lunga no? su questo anche su questo abbiamo diciamo trovato un punto una proposta che tenere insieme la questione di evitare una immigrazione massiccia che in una situazione già di difficoltà del popolo italiano puniva il problema del tampio in sociale ma anche del conflitto sulle risorse pubbliche perché spesso il conflitto avviene più sui servizi che sulla questione del lavoro più altre vicende di carattere culturale quindi la posizione è quella della regolazione dei flussi in base alle capacità di un paese di gestire un fenomeno e di integrare effettivamente cioè di rendere il cittadino come gli altri quelli che nello stesso tempo attaccare invece i motivi dell'immigrazione che stanno nel modello liberista che è stato sperimentato prima in Africa che in Italia il modello Grecia era già stato applicato già da una quindicina ventina d'anni in Africa che poi fu è stato il coso diciamo post diciamo decolonizzazione quindi abbiamo trovato diciamo su una serie di questioni e le posizioni nuove presentiamo questo 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 manifesto improvvisamente la questione si blocca fascina ritorna fascina e la situazione per farla breve è questa a un certo punto si spacca senso comune su due questioni sono due sostanzialmente uno che quello che c'era scritto nel manifesto sull'Unione Europea eccetera eccetera non veniva più rispettato perché fascina ha cominciato a dire perché una cosa è girare la frittata per renderla ascoltabile della rottura dell'Unione Europea una cosa è dire pubblicamente che il problema non è l'euro che il problema sono i trattati e così e secondo che si riproponeva un problema di ritorno a una cultura anche indicazione di voti di voto verso la sinistra che invece precedentemente era stato il crinale su cui noi siamo di qua dobbiamo costruire un altro campo rispetto a quello e più siamo lontani da quello più abbiamo possibilità di costruirlo esatto terzo di nuovo la questione del partito del scato cioè c'era fascina che non convocava neanche le riunioni io mi sono trovato nel direttivo di parte della Costituzione perché l'ha deciso lui senza neanche dirmi oh guarda voglio entrare non tanto da parire come la gente è mate questo per dire e la stessa cosa vale per senso comune dove c'era un cerchio un cerchio magico di tre persone Cioni Ritterbaudo e Mazzolini che decideva per tutti c'erano le riunioni e io dicevo ma adesso di queste cose qui vado devo parlare con i compagni di rinascita c'erano quelli di senso comune noi decidiamo dopo di che ho finito questa cosa dentro soprattutto parte di Costituzione c'è una parte soprattutto network socialista che pone il problema democratico eccetera eccetera delle stromissioni di rinascita da di fatto di questo percorso insomma alla fine le risposte di Fassino sono nel metodo nel merito non accettate e non accettabili e in buona sostanza con la lettera che avete visto l'altro giorno c'è c'è la divaricazione gran parte dei compagni di parte di Costituzione sta diciamo con continuare il portare avanti il manifesto per la sovranità costituzionale c'è una divaricazione in atto ma tanto per dire Thomas Fazzi su questo versante e quindi noi e noi pensiamo a metà quindi questo è un invito a metà giugno di presentare dopo il manifesto un programma politico che poi ragiona su su delle proposte più di fase e vi dicendo e appunto l'obiettivo è quello di costruire il soggetto il partito che in Italia non c'è e la cosa che vorrei dire è che dobbiamo pensare quando si parla di una lista possiamo pensare se dobbiamo fare il prossimo inizio una lista anche purale dicendo ma io credo che il soggetto debba essere un soggetto unitario cioè un soggetto che mette insieme le persone perché rifacciamo tutti noi un resè e in qualche maniera ricostruviamo un ragionamento dei punti di vista una cultura politica e sostanzialmente un genere perché se noi vogliamo reggere lo scontro che c'è in atto noi non possiamo essere l'armante branca l'euro quindi io penso che se noi vogliamo cambiare questo paese dobbiamo cominciare da noi a cambiare perché se non cambiamo noi vuol dire che ripetiamo noi stessi ripetiamo quegli stessi risultati cambiamoci per costruire una cosa che in Italia non c'è che in altri paesi c'è c'è invece con problemi adesso non ho tempo ma i partiti populisti progressisti che sono nati nella fase globalizzazione crisi della globalizzazione sono in difficoltà perché la reazione che hanno è quella di ritornare al sinistrismo in parte Melanchon Cosman e Luiz se n'è andato per motivi sui migranti non per dire Podemos nel rapport colpsoe è andato in difficoltà perché il problema oggi è un'alternativa di sistema uno può dirla no è un'alternativa di sistema o se stai dentro questo sistema poi sei macellato non ci sono non c'è niente non c'è niente da fare quindi dobbiamo avere questa chiarezione è una rivoluzione fatta nella situazione odierna questo è il punto sia sul piano della politica della semplice applicazione della Costituzione e nello stesso tempo della necessità di costruire un'alternativa se tu non hai un'idea alternativa di società e questo credo che c'entri poco con tante altre discussioni perché anche questo dobbiamo essere secondo me molto innovativi devo dire certe questione certe esperienze di tutti vuol dire in cui l'industrialismo era sempre un avanzamento eccetera sempre passando adesso questi passaggi la crisi ecologica che abbiamo ci propone veramente una di rivoluzionare noi stessi io penso che per esempio noi abbiamo sempre concepito di radicarci sopra questo pianeta ma se andiamo avanti così noi sprofondiamo questo pianeta noi dobbiamo appoggiarci con delicatezza su questo pianeta ma questo vuol dire cambiare completamente il senso ripensare il senso della vita ma in fondo le idee socialiste nascevano esattamente da cambiare il cambio di paradigma di visione del mondo però a quest'ora secondo me la visione del mondo è quella buon bravo grazie vi ringrazio a tutti noi ci hanno cambiato adesso aspettiamo di un minuto perché noi ci siamo comunque ci saremo va bene c'è spazio per una domanda mi interesserebbe fare di avventure volevo sapere io ci sono venuto da ancora apposta perché mi interessa questa cosa il movimento 5 stelle proprio questa mancanza di democraticità potrebbe essere fecondato positivamente da questa vostra formazione nel senso che visto che hanno aperto a una democrazia interna ma solo a parole può darsi che potrebbe da voi cominciare un dialogo con loro cercando di aprire questo movimento a come si impara la democrazia interna a vista il vostro modo di agire come tutti i partiti normali risposta sintetica risposta sintetica secondo me nel movimento 5 stelle che vota il 5 stelle oltre alla 5 stelle c'è più sinistra e c'è più gente di sinistra può parlare attorno al movimento 5 stelle che vota il 5 stelle non so se si esteranno nelle prossime europee c'è più gente di sinistra che nella sinistra sì questo comporta un rapporto dialettico con il movimento 5 stelle infatti noi abbiamo apprezzato delle cose che hanno fatto e altre no a differenza per esempio della lega io penso che il movimento 5 stelle non può essere delle organizzate però io credo che in quella discussione in questa dialettica anche nella loro crisi con la loro crisi perché non hanno una cultura in grado di rispondere ai problemi che hanno avuto andando al governo io credo che un soggetto diciamo sovranisco abbia solo da guadagnare ha un rapporto diciamo appunto di critica ma anche di diciamo di relazione sicuramente grazie grazie